Intro Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie Oggi signori miei siamo sulla Pokémon Rosso Fuoco Elimination Nuzlocco Elimination Challenge insomma chiamatelo un po' come vi pare Signori miei prima di iniziare con questa serie Vi invito a passare dal canale del creatore della challenge ossia Freak Tra l'altro penso che sia uno dei pochi sulla community italiana che come me ha inventato delle challenge Non è infatti l'unica questa che ha inventato E quindi se volete vederne altre mi raccomando passate dal suo canale che troverete ovviamente in descrizione Detto ciò mentre Professor Rock farà la sua solita tediosa presentazione Noi andremo a spiegare meglio cos'è l'Elimination Land Quella sì insomma si tratta di una Nuzlocke molto semplice Randomizer Intanto ci chiamiamo Creepy come al solito Nella quale però ragazzi ci sarà la variante Che permetterà a voi dopo circa tre episodi Di decidere un Pokémon da eliminare dal team In pratica tramite votazione che avverrà utilizzando lo Straw Poll Che troverete in descrizione il giorno delle votazioni Potrete eliminare un Pokémon del team che avrò Quindi potrete per così dire eliminare il mio Pokémon più forte O magari aiutarmi a eliminare la più sega Insomma potete far davvero di tutto Comunque siamo tornati nella nostra casetta di Bianca Villa Dopo chissà quanto tempo dalla prima generazione Signori miei obiettivamente era tantissimo tempo che non mi portavo la prima gen Che poi è terza con i remake ma vabbè dettagli Inoltre piccola variante della piccola cerzione alla regola Nel caso in cui nel nostro slot dei Pokémon ci sia un posto vuoto Avrete la possibilità di votare il posto vuoto appunto Grazie al quale non perderò nessun Pokémon Ora signori miei non vi sto a dire cosa ho randomizzato Lo scopriremo andando avanti Comunque vabbè i Pokémon selvatici, i Pokémon degli allenatori Ovviamente non come la Crazy Rock Tra l'altro se non avete visto il video a riguardo della Crazy Rock Andatelo a vedere vi metto anche quello in descrizione E nulla, poi altre cose Gli starter ovviamente li ho randomizzati Insomma andiamo a vedere subito Ovviamente non leggemo i dialoghi perché li conosciamo a memoria ormai Signori miei, gli starter Ok Fear of no, cancerogeno, non lo voglio Oddio Oh Gesù Cristo che merda però Ma davvero? C'è Lo schifo E vabbè raga, tra questi tre io andrei di Spearov sinceramente E di Fearov perché Cioè è quello più Più buono Cioè davvero Ehm Ok So creepy you want to go with the flying Pokémon Fear of Però la Roma è italiana infatti Non capisco Vabbè Dettaglio Teniamo Fear of, gli diamo il soprannome Sì lo chiamiamo Ehm Come potrei chiamarlo un Fear of raga Oh c'è un becco lungo Ehm Lo chiamo Lo chiamo Sparatemi vi prego Lo chiamo che vedo Allora per chi ha fatto linguistico In particolare per chi ha fatto letteratura spagnola Questo nome non gli sarà nuovo Che vedo fece un sonetto se non ricordo male Sopra un uomo che aveva un naso gigantesco E Fear of obiettivamente c'ha un naso allucinante Che poi ha un becco E quindi ho deciso di chiamarlo così le mosse Azione assistente Intrione Bello pistola acqua Commoventi davvero No sul serio Che cosa bella Allora Dobbiamo battere il rivale Suppongo che abbia i Pokémon Lo starter non randomizzato in realtà E invece è un Sielio a caso signori miei Ma che cosa bella Allora direi di aprirlo velocemente Io vi ricordo che la Nazlock non è ancora iniziata Ehm Ok Devo abituarmi al fatto che adesso i tipi sono normali Sarà Sarà difficile Sarà un parto Davvero Ok Allora Ehm Sì L'abbiamo preso in quel posto Fa niente Allora Non abbiamo Pokémon Quindi la prima cattura non sarà utile E giustamente è un Dragonite Ma perché no signori miei Ma perché no Uh ho randomizzato le abilità davvero Non me la ricordavo sta cosa Cos'ha lui Aiuto fuoco Abbiamo pistola acqua Madonna raga che schifo Le statistiche dovrebbero essere normali Questa è una cosa che ricordo perché L'ho proprio C'ho proprio la visione di Di me Che non cambio le statistiche Qui il shark signori miei Mamma mia I bei ricordi Ok Andiamo a prendere il pacco di Hawk Molto velocemente E siamo Siamo solo a 4 minuti Tra l'altro devo fare l'intro per questa serie Non so ancora come sarà l'intro Chissà che cosa vi caccerò fuori Allora Perfetto Quindi abbiamo il pacco di Hawk Il gioco No ok Sta andando abbastanza fluido Col velocizzatore che Diciamo lagga un pochino Ma questo ragazzi Perché la qualità di OBS Nella registrazione è molto alta Oddio Marco Di che colore sei È più nero adesso Cioè gli han cambiato il colore Vabbè Comunque Andiamo da Hawk Prendiamo le Pokémon Direi di far subito La prima cattura signori miei Tanto Ripeto La trama la conosciamo Di sti giochi È praticamente inesistente Questa qua è la classica roba del professore Quindi ce la logizziamo tutta ragazzi Perché Sinceramente non ho voglia di perdere tempo In queste stronzate Ok Possiamo proseguire Invece no Perché ho trovato la prima cattura Ed è un cancerogenissimo Opip Sapete chi c'era qua C'era il fottuto Dragonite Io sono riuscito a trovare un Opip Sono riuscito a trovare un Opip Eh catturiamolo Evviva Ok l'abbiamo preso Vuoi dare un soprannome Opip Lo chiamiamo Allora Abbiamo fatto Tumore l'abbiamo fatto Violo l'abbiamo fatto Tetano Tetano dai Ci sta Tetano Grandissimo Il miglior Pokémon che io abbia mai avuto Proverò ad allenarlo signorini Tra l'altro questo coso qua Potrebbe potenzialmente diventare uno Skiplum E poi un Jumpluff Jumpluff che come sapete No non potevo trovare lui No 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 Opip Opip è un gran Pokémon raga Allora vabbè Andiamo a curarci Pokémon E direi di andare a fare subito La cattura Verso il percorso A sinistra di Smeraldopoli Percorso a sinistra di Smeraldopoli Nel quale ci sarebbe anche da affrontare il rivale Che però non affronteremo per ora Perché altrimenti lo prendiamo in quel posto Prima però se non ricordo male Esatto Difesa X Difesa X Ok ho randomizzato anche gli oggetti per terra Oddio signori miei Però che nervoso Sul serio Cioè Tra tutti i Pokémon ho trovato lui E ha solo supplica al cancro Allora Fatemi vedere Incantevole Eh vabbè L'abilità è buona Maschio maschio Ok perfetto L'abilità può starci Cioè vediamo chi ci capita qua a sto punto Dai qua chiedo gli occhi Oddio forse è buono Oh vabbè Shiftry dai Cioè è un altro di erba Quindi in realtà dai un cavolo Però Ok Dicevo Però potrebbe non essere così Come avvagliante Oddio però c'è C'è un moveset della Madonna Dobbiamo prenderlo sto cosa No devi entrarci figliolo caro Eh figlio del signore Ti prego Allora Curiamoci che vedo Ehm Non so Io sono consapevole Che se gli faccio una mossa C'è no vabbè Ma cosa sei Sei Gesù È sceso sulla terra Per Per redimerci tutti Sto coso Ma che mossa è ta Ah e poi a tenaglia Vabbè però Ti prego Fatemelo prendere Ma porca troia Non ci credo Non posso davvero Buttare nel cesso Una cattura del genere L'ho fatto Inizia bene sta serie No ma davvero Proprio Nel migliore dei modi Non potevo sognare Un inizio migliore Ok Va bene Allora abbiamo buttato Nel cesso una cattura Quindi direi di andare A prendere le pokeball Comunque signori miei Conto di non fare la serie Sarà una serie abbastanza breve Perché signori miei La regione di canto La bypassiamo velocemente Dato che conosciamo tutto Velocizzeremo un casino Il gioco è abbastanza corto Anche perché signori miei Vi allo anticipo A gennaio Arriveranno Grossi 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 Progetti Si spera Ora qua in teoria Dovrebbe esserci il tipo Del tutorial Che balzerei molto velocemente Non è neanche randomizzato Il tutorial Dai esci la pokeball Catturalo Bravissimo Best poke trainer EU proprio Allora ok Di qua la palestra Era chiusa E lo sappiamo E allora ragazzi Non saprei che fare Effettivamente Direi che facciamo La cattura a bosco smeraldo Però il bosco smeraldo Ce lo facciamo Nel prossimo episodio Questo che percorso è? Questo è già percorso 2 Quindi aspettate Facciamo prima la cattura qua Le pokeball le ho prese Sì ne ho prese 10 Di pozioni ne ho 0 Allora aspettate Torniamo indietro Prendiamo le pozioni Facciamo la cattura qua fuori Se ci richiede poco tempo Se abbiamo altro tempo La facciamo anche dentro Altrimenti Buona Allora 3 pozioni Perfetto Poi prima del prossimo episodio Prima di proseguire Per il bosco smeraldo Mi farò trovare con i pokemon allenati E andremo ad affrontare Il rivale Detto ciò Ti prego Ma non è vero Ma non è vero Ma mi sta impigliando Per il culo Già da adesso Ma come come fai Avere pioggia a danza Ma figliolo Ma ripigliati Allora Perlomeno Tu mi sembra Che abbia un buon moveset Quindi Ok L'abbiamo preso Oddio Ma cosa sta succedendo qua Allora Fermi Lo chiamiamo Koga Troppe catture Inizio il gioco Troppe cose Troppe cose Non mi aspettavo Di iniziare così E' già troppo Movimentata Come cosa Io impazzisco Ancora peggio Che nella crazy lock Signori miei Mamma mia Allora Andiamo al centro pokemon A curarci E poi A sto punto direi Di far la cattura Vi ricordo che All'incirca Torno direi Al terzo episodio Faremo la votazione Per decidere Che pokemon Eliminare dal team Fatemi sapere Nei commenti Se volete Magari Che la votazione Si faccia Ogni due episodi Anziché ogni tre In modo tale Da rendere la cosa Più avvincente Insomma Ma ciò Che non si può evolvere Io Cioè Veramente Ho come la voglia Di suicidarmi No Sul serio Tra l'altro Noto che le mosse Randomizzate Sono state Le mosse Sono state Randomizzate Perché la sintassi Della frase È ottima Con un certo Diciamo Con una certa logica Insomma Non sono state Completamente Sfanculate Almeno Penso che sia così Soprannome Amaciocche Ehm Eh Come lo chiamo io Maciocche Non ne ho assolutamente idea Maciocche Che soprannome Può avere un maciocche raga Cioè Proprio Tranchi Così Ehm No Non lo chiamerò Sina Non lo voglio chiamare John Sina Vi prego Non fatemi fare il rocette Della situazione Come lo chiamo io Sto cosa Non lo so Non mi viene in mente Nulla I wrestler Non li conosco E donna Aspetta 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 Dimmi che ci sta Dimmi che ci sta Ci sta Non ci credo Lady Bird O Lady Beard Come cazzo si pronuncia Non so signori miei Sapete chi è ma È praticamente Un wrestler Che si vestiva da donna Praticamente Per combattere Ma ovviamente era uomo Ehm E tipo Ho fatto anche delle canzoni In giapponese Già Quando dici che uno È tipo Fa tutto nella vita Comunque signori miei Il bottino D'inizio serie E fa cagare Ma vabbè Dettagli tra l'altro Penso No non è full Prima jam Perché c'è Opip Che è di seconda C'è Tetano Che è di seconda Seconda Quindi signori miei Spero che questo primo episodio Vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito A lasciare un bel piaccio A commentare E a iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate i social In descrizione Rispondete a domande del giorno Che sarà come al solito Qua sotto Nella sidebar E noi ci becchiamo In un prossimo video